Ciao, sono Marco Berti da Gliderit. Questo è solo una piccola parte della nostra scuola di glideri. Il blu è il nuovo ASV-15. L'abbiamo rilasciato ora. È di 3.75 metri. È un modello di scale. È buono per aerobatici e buono per termali. Alla destra, in verde, abbiamo il SWE-25. Non è un nuovo modello, ma è un modello molto bello. Non troppo grande. È facile da trasportare. Non troppo costruire. Grazie performance. Qui, in giallo, abbiamo la nuova versione del Grecalis. Il Grecalis SABO. Ha migliorato la qualità per la fusolasi e la carbon canopy. Tutto è stato fatto più facile per metterlo. Grate aerobatici performance. È un buon progetto. In giallo e verde, il Vettore. È un modello di termale e anche per aerobatici. Se vuoi un modello di trovare solo il modello. Questo modello è per voi. E, per esempio, non lo sbaglio. In giallo, in fluorescente yellow, il SWE-32. È una macchina molto veloce. Quando vuoi andare veloce, vai perla. Ciao!